Volvo Cars, la casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, avvierà questo mese la produzione del suo nuovo SUV medio, la Volvo XC60 presso lo stabilimento svedese di Göteborg. La nuova XC60 uscirà dalla linea di produzione esattamente a 90 anni di distanza dal giorno in cui è stata prodotta la primissima Volvo il 14 aprile del 1927. Dal primo modello realizzato da Volvo sono stati venduti complessivamente 275 esemplari, un numero modesto persino in quegli anni. La nuova XC60 va invece a sostituire uno dei modelli più venduti di tutti i 90 anni di storia della casa svedese. La nuova XC60 uscirà dalla linea di produzione, un numero modello realizzato, un numero modello realizzato, un numero modello realizzato, un numero modello realizzato, un numero modello realizzato. La nuova XC60 uscirà dalla linea di produzione, un numero modello realizzato. La nuova XC60 uscirà dalla linea di produzione, un numero modello realizzato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.